Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al blog della Mela, quinto episodio ritorniamo a parlare ancora di Automator e quest'oggi parliamo di altre due applicazioni l'altra volta abbiamo parlato di come si fa a chiudere tutte le applicazioni e come aprire il sito internet adesso andiamo a vedere come ridurre le dimensioni delle immagini e come ricordarsi i compleanni passiamo subito ad aprire Automator ecco qua sotto, Automator apriamo qui come punto di inizio scegliamo sempre che è la cosa più conveniente da fare ad hoc clicchiamo su scegli dopodichè iniziamo a inserire le azioni per effettuare questa operazione allora andiamo a cercare ottieni elementi del finder specificati ovvero i... no, quelli specificati bisogna essere indicati ho sbagliato ottieni elementi selezionati ovvero quello che selezionerete voi con il mouse quante fotografie volete ridurre dopodichè andiamo a inserire immediatamente la funzione ridimensione immagini ora ridimensione immagini ecco qua inseriamo come vedete Automator ci comunica che le immagini che entrebbero in questo processo verrebbero modificate e le originali non verrebbero conservate se noi clicchiamo aggiungi come vedete ci inserisce un passaggio o un'azione intermedia che appunto copia gli elementi selezionati e sulla copia degli elementi effettua il ridimensionamento che può essere fatto sia su dimensioni sia per centuali se invece sapete di scaricare immagini e volete ridurli senza effettuare doppioni basta semplicemente eliminare il passaggio intermedio comunque noi rinseriamolo ora copia elementi del finder e questo è il flusso di lavoro creato adesso andiamo in archivio e lo registriamo ne registriamo magari con il nome a ridimensione e indicate l'unità che avete scelto ovvero qua scegliamo 480 facciamo flusso di lavoro e registriamo perfetto facciamo subito qua pure ora richiudiamo pure automato però facciamo subito un esempio con questa immagine una immagine dell'iMac quello vecchio e quello nuovo come possiamo andare a vedere dalle informazioni questa è un'immagine di dimensioni 1100 x 876 quello che dobbiamo fare adesso chiudiamo effettiamo questo compito di cambiare dimensione di fatto andiamo tasto destro altro automato e come vedete ridimensiona 480 ridimensioniamo come possiamo andare tra poco qua su sulla barra sul menu apparirà l'inizio del flusso di lavoro ecco fatto ridimensione immagini completato ed eccoci qua l'immagine ridimensionata questa è l'immagine originale questa è l'immagine ridimensionata come vedete un compito abbastanza semplice dopodiché andiamo a vedere come inviare e come ricordarsi i compleanni allora sempre automator ad hoc andiamo a cercare qui l'azione cerco persona vediamo cerca persone nate eccolo qui la funzione cerca persone nate questo andrà a cercare dentro la vostra rubrica indirizzi le persone che compiono gli anni in una data imminente scegliete voi la durata temporale può essere scelta tra oggi domani questa settimana questo mese o prossimo mese o settimana prossima successivamente una volta che chiedete di ricordare inviamo l'invito allora cerchiamo invia auguri di compleanno aggiungiamo questo nel flusso di lavoro ed ecco qui completato ricordarsi bisogna ricordarsi che sulle opzioni bisogna chiedere che questo flusso di lavoro sia in corso sia per quanto riguarda la cerca persone nate sia per quanto riguarda o mostra questa azione al flusso di lavoro quando è in corso eseguiamo facciamo la prova col tasto esegui per vedere se effettivamente questo flusso di lavoro funziona come vediamo appare la scritta cerca persone nate e ti chiede come cercare facciamo questa settimana continua adesso sta effettuando il lavoro mi apre automaticamente la cartella rubrica di indirizzi mi vede non mi trova nessun destinatario nessuno compagnoni questa settimana dei miei contatti facciamo continua automaticamente non guanderà l'email e come vediamo la spunta verde ci comunica che appunto il flusso di lavoro è funzionante qui anche qui archivio registriamo anche questo flusso di lavoro ma come applicazione lo chiamiamo compleanni e registriamo possiamo pure chiudere automato ecco qui la funzione compleanni che vi appari con l'icona di automato per fare questo comunque dopo per far partire questa applicazione dovete voi cliccare sull'applicazione e ricordarvi ogni settimana di farlo si può essere aiutati anche con la semplice integrazione del programma iCode andiamo ad aprire iCode ecco qua apriamo iCode creiamo un calendario apposito in questo caso l'ho chiamato calendario applicazioni decidete voi un giorno della settimana qui far partire questa applicazione io in questo caso ho scelto domenica creiamo un nuovo evento chiamiamo ma in questo caso era un applicazione va bene in questo caso applicazioni nuovo evento scriviamo compleanno dopo di che andiamo a cercare maggiori informazioni per quanto riguarda questo evento qui decidiamo l'orario di cui far partire mettiamo dalle 10 alle 11 e come avviso andiamo a selezionare apri documento nell'apri documento dopo di che andiamo a selezionare altro e in altro andiamo a cercare in questo caso la scrivania oppure in un cartello che avete salvato voi l'applicazione creata a comprensione selezionate questa applicazione partirà 15 minuti prima di questo evento cliccate sul tasto fine e il gioco è fatto così ogni settimana nel giorno che avete deciso partirà questa applicazione che vi ricorderà i vari compleanni bene prossimamente vediamo per quanto riguarda l'invio dei fax e conversione cos'era adesso l'invio dei fax e sveglia attraverso una playlist musicale ci sentiamo alla prossima ragazzi ciao a tutti ciao a tutti